Buonasera a tutti, benvenuti, io mi chiamo Andrea Inzerillo, faccio parte dell'Associazione Culturale Subtitles, accanto a me Ivan Scinardo che è il direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia che ci ospita in questa bellissima sala bianca, non per la prima volta, Andrea Segre e Emma Dante. Buonasera. Beh io dico solo due parole così poi lascio, quando io ho visto questo film ho subito pensato, ho voluto che venisse in qualche modo a Palermo in Sicilia e quindi ho pensato che l'uomo giusto per fare questa cosa era Andrea Inzerillo e ho avuto ragione perché appena appena gliel'ho chiesto lui ha subito organizzato, si è mosso in maniera proprio velocissima e ha, è stato insomma lo ringrazio moltissimo per questa cosa perché appunto dimostra anche una volontà e un desiderio di grande movimento culturale che questa città comunque fa anche se non sempre ce ne accorgiamo. Ci sono delle persone che insomma ci credono e che hanno voglia di portare qui delle cose, di creare confronto eccetera eccetera. Grazie Andrea, ti volevo insomma ringraziare, questa era una cosa proprio mia con te e sono felice che ci sia Andrea Segre qui per tanti motivi tra cui appunto la proiezione di questo film che io amo molto perché comincio col dire insomma una cosa di cui appunto lui mi faceva, mi ha detto poco fa, mi ha aperto il cuore perché mi ha detto Ibi è viva e questa cosa è diciamo il primo tassello secondo me da considerare, da mettere in questo nostro appunto racconto di questa donna perché effettivamente quello che lei ha fatto nella sua vita è qualcosa che rimane e questo film ha infatti questa funzione secondo me, ha la funzione di far restare questa vita e le vite che l'hanno circondata e per cui lei anche si è battuta perché insomma è anche una persona che ha fatto, che fa delle cose per gli altri perché poi fa parte di una, parliamo di lei al presente perché mi piace, cioè parliamo di lei come se, di lei viva perché è viva, quindi lei fa parte anche di un movimento, di un'associazione che aiuta gli immigranti e fa per queste persone molte cose, a parte insomma tutta la sua vita che è una vita di un artista sostanzialmente. Ecco, Ibi Artista è anche un altro, il secondo tassello importante perché lei è una filmmaker e una fotografa definita, chiamata da tutti mamma foto e quindi questa mostra che ha annunciato Andrea all'ecomuseo Mare Memoria Viva è una mostra delle sue fotografie e resterà aperta a tempo indeterminato fin quando non ci sarà una nuova richiesta di altre mostre per cui insomma, però questo non significa che non dovete andare subito a vederla perché poi magari appunto dopo domani arriva un'altra richiesta e la smontano e noi ci siamo persi le foto di mamma foto, due giorni dovete andare. Se voi non mi vede perché sono io che fai questo video, io mi chiamo Ibi, Ibi quale lavoro fa? La mia lavoro preferisca sonoponografa. Noi, 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 noi! Boccani, ciao! La mia foto è la mia di più. Mamma foto l'ai lì ho la mia di più. Very, very many happy returns. Attenzione, his feelings will even stop me from doing whatever I have, I will still assist her without question. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no. un elemento fondamentale dell'interazione tra tante comunità che si reggono in un posto molto difficile, molto denso di sofferenze, di difficoltà, di tensioni criminali. Siamo in zona di Camorra, siamo in zona di Camorra napoletana, ma anche di mafia nigeriana. Ci sono sicuramente enormi problemi di tenuta del tessuto sociale. Una figura come Ibi è una che tiene questo tessuto, cioè una che si muove da una parte all'altra e che se arriva lei non si può fare casino, cioè aveva questa funzione. E quindi avrei potuto anche fare un film intervistando decine di amici di Ibi e fare un collage di voci, di testimonianze. E invece poi ho sentito che la sua voce stava in quel silenzio, in quell'assenza. Sì, infatti invece parla lei, parla lei sempre e questo rende questa storia ancora più toccante. La cosa che appunto, volevo tornare sulla geografia di questo film, cioè sul luogo, non il luogo che lei chiama Europa, questo paese appunto in Campania, che lei continua a chiamare Europa, che mi piace tantissimo, insomma, perché appunto racconta il suo sogno, racconta anche il fatto che lei trasforma le cose attraverso la sua immaginazione, la sua fantasia, poi appunto racconta anche il suo essere artista, perché le foto che lei fa e che vedremo a questa mostra sono anche, cioè ci sono degli interventi, dei cortocircuiti molto profondi anche del suo essere, una persona senza identità, perché lei prende se stessa e prende i suoi simili e lì, come in un innesto, li mette in contesti sbagliati. Cioè sono delle foto che raccontano cortocircuiti in questo senso appunto molto particolari e appunto la geografia che viene fuori anche da questo film, appunto questo luogo, che io non mi viene di... cioè mentre lo guardo non penso mai di stare a Napoli o di stare in un posto al sud, non so perché, ma non mi fa pensare al sud, forse queste nuvole, questa luce, dopo la pioggia eccetera, ma lo sento forse anche perché c'è questo continuo ricoprire il cemento di terra, questo modificare il luogo in cui lei sta, perché diciamo l'orto, insomma questa ostinazione di ricoprire il cemento con un fazzoletto di terra, con un lembo di terra che diventa sempre più grande racconta anche un po' la metafora di questa situazione e racconta anche l'ostinazione di questa donna evidentemente e anche di queste persone che vivono lì, di comunque nonostante non si possa mettere radice profonda, si continua a coltivare e a innaffiare e comunque a produrre, no? Per cui lei, questo rapporto appunto con quella geografia del luogo è anche molto interessante perché è più una geografia dell'anima quella che il film racconta, cioè ripeto appunto, poi non lo so, a me non mi viene in mente il sud, non mi viene in mente forse il contesto in cui lei vive eccetera, però è molto condizionato dalla sua anima, cioè da quello che lei fa e come lo fa, dai gesti che ha intorno a questo luogo. E volevo appunto capire insieme a te, volevo capire da te se era importante per te definirlo questa Europa in questo film, cioè questa Europa che lei continuamente definisce in questa maniera, anche se... Allora, il giardino, l'orto, cioè quel fazzoletto di terra che lei decide di coltivare, non soltanto da un punto di vista materiale, ma da un punto di vista spirituale sicuramente, perché lei, che sia una coltivazione spirituale confermato dal fatto che nel suo archivio è filmato tantissime volte. Lei mostra molto spesso il suo orto e lei nel suo orto ai figli, perché attenzione che c'è un motivo materiale del perché lei inizia a utilizzare le immagini, cioè ci sono due motivi materiali, uno perché andava a filmare le cerimonie per poi cercare di vendere le foto e le immagini per guadagnare qualcosa. Ma l'altro motivo materiale privato è raccontare ai figli e per fortuna prima dell'area Whatsapp, Skype o smartphone, così lei filma per rappresentarsi, ma nel filmare io quello che ho sentito guardando le immagini di Ibi è che non è mai descrittiva, lei è sempre in qualche modo maieutica, cioè lei filma e filmando fa qualcosa, cioè è un atto performativo, è un vivere che lei fa. Il caso più evidente è quello della preghiera, cioè quella che io chiamo preghiera è quando lei chiede ad Allah di aiutarla a vendere le immagini perché deve con quelle immagini e quindi filma le sue immagini e utilizza il video come atto rituale. Ma anche gli altri momenti in cui lei filma, c'è quel pezzo del dialogo con la pecora che deve essere uccisa, è sempre un voler creare qualcosa mentre filmi e non semplicemente descriverlo, è un partecipare, è un esistere mentre filmi, perché per lei la fotografia e il video era diventato uno strumento di esistenza, ok voi volete che io non sia, allora io vi mostro, io vi riprendo, io vi rappresento e mi rappresento in mezzo a voi, così se io non sono almeno io mi sto creando. E questo è chiarissimo ed è fortissimo nell'utilizzo che lei ha del video. E in questo modo sì, racconta un'altra Europa, racconta un'Europa in cui la persona che dovrebbe rimanere in silenzio perché irregolare, illegale, esclusa, non autorizzata ad essere e a parlare, non solo parla, ma parla di questa cosa, la spiega ad altri e la rappresenta attraverso delle scelte sue. Poi c'è un altro rapporto molto forte tra, secondo me, noi abbiamo cercato nelle nostre immagini di raccontare il paesaggio dentro a cui c'è la casa di Ibi e la vita di Ibi. E le immagini che abbiamo cercato di raccogliere l'intorno sono tutte immagini in cui c'è un rapporto conflittuale tra la costruzione artificiale, il cemento, la strada, l'asfalto e quel pezzo di natura che cerca di continuare a esistere è dentro di un territorio feritissimo, molto martoriato da queste costruzioni di vario tipo e in vari modi non autorizzate. Per cui i bufali fanno il bagno ma a fianco c'è la tangenziale, cioè fanno il bagno a fianco della tangenziale. A fianco la strada che fa salami per andare a casa passa a fianco ad una fattoria ma subito dopo iniziano tutte le case della speculazione edilizia. E lei si trova lì dentro e dentro a questo mondo decide di provare a salvare un suo rapporto con la natura e con la natura africana perché lui, lei coltiva semi che si fa mandare dall'Africa. E tutta questa cosa è molto forte nelle immagini che lei fa. Io ho una delle immagini che amo di più è quella di quando lei appoggia la camera e si siede con quel vestito giallo verso la fine del film. Con quel vestito giallo si siede e raccoglie, c'è l'albero, c'è del vento e lei raccoglie seduta. E questa cosa di aver messo la camera lì affinché il protagonista di quelle immagini è il suo orto a fianco a cui lei si siede. E poi c'è la cosa che ha colpito molto me e ha colpito molto anche Rai Cinema quando poi ho portato le immagini è la crescita di una vera e propria consapevolezza geometrica nelle immagini che lei ha. Cioè le inquadrature, ora queste magari sono fissazioni da regista, ma vi assicuro che le inquadrature che lei fa quando ad esempio apre lo stendino, cioè quello stendino, io quando ho visto per la prima volta quelle immagini, cioè lei mette la camera in modo tale che quando lei gira intorno alla camera arriva lo stendino, apre lo stendino, le due ante dello stendino sono perfettamente al limite dell'inquadratura e quella cosa non avviene per caso. Certo, certo. Però non regola il fuoco. Sì, attenzione che non regola il fuoco. L'inquadratura mi sembra più che altro, cioè forse è ovvio che piano piano si cresce, però quasi tutte le sue inquadrature sono sfocate. No, attenzione un attimo che non sono per nulla, sono le inquadrature sfocate e sono quelle in casa all'inizio. No, 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 anche tante, forse alla fine qualcuna va. No, guarda che tu stai vedendo... Se il Rai Cinema è rimasto colpito dall'inquadratura però non è rimasto colpito dal fuoco che praticamente non è sfocato, cioè forse il Rai Cinema dovrebbe mettersi gli occhiali, non lo so, scusate. Ma allora, le inquadrature sono... Io ho scelto delle inquadrature sfocate quando lei diceva delle cose. No, no, ti rispondo... Attenzione perché... No, no, c'è... Non credo, finisco. A me sta bene che lei abbia fatto le cose sfocate, perché non... Mi sta bene tutto, tutto il che lei abbia fatto semplicemente, però mi sta bene in un senso, che lei si sia filmata per far vedere i suoi filmati, la sua vita, i figli, ma senza questo intellettualismo che ci mettiamo noi. Io credo che con molta naturalezza lei si sia filmata e basta. Ti posso assicurare, ti stai sbagliando, perché lei fa una ricerca estetica ben precisa nella sua produzione. Ma qui, da questo non si vede. E dove non l'hai vista? Dove non l'hai vista? Vedo semplicemente una donna... La scena dei secchi, lei capito? In mano... No, 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 no. No, no, no. Scusami, però, non possiamo porre ora la questione di chi ha capito o di chi non ha capito. Io credo, ed era la domanda che ti volevo anche rivolgere, quella di se... ti ha preceduto, mi ha preceduto, è che io voglio andare un po' controcorrente, perché non ho colto nessuna azione e intenzione artistica nel percorso di... Cioè, se queste immagini le vedessimo estrapolate da questo film, le interpreteremmo come delle immagini amatoriali di una persona che si diverte a utilizzare la telecamera e riprende i suoi parenti, le scene, ne abbiamo viste tante. Io faccio anche questo lavoro e noi poi in qualche modo ci conosciamo e poi ti ricorderò, perché non lo voglio dire in pubblico, ma ci siamo sentiti molte volte, perché abbiamo realizzato... No, no, abbiamo avuto uno scambio su documentari, però non è questo il punto. Quindi, diciamo, alla tua domanda che dicevi a Letizia se sei un direttore della fotografia o no, qui non ci vuole una capacità tecnica nel percepire quelle immagini. Sono delle immagini amatoriali che non hanno... non c'è nessuna azione, nessun percorso artistico, c'è la voglia e la volontà, almeno quello che colliamo noi, di una persona di raccontarsi, ma questo accade... E la seconda domanda, infatti, che ti volevo porre era cosa ti ha colpito poi della storia di Ibi, premesso e scontato il fatto che tutte le storie di tutte le persone sono importanti, sicuramente la storia di Ibi è una storia importantissima di una persona che io vedo molto più come un'attivista, di una persona di una grande sensibilità, ma queste storie le possiamo cogliere giornalmente e quotidianamente in centinaia di persone che non sono soltanto migranti, ma sono persone, non è importante che siano migranti. Quindi non capisco cosa, sostanzialmente, quando presentavate il film, cosa... e qual è l'azione artistica che compie lei e poi perché lei, in quanto Ibi, ti abbia colpito così tanto, tanto da poterci realizzare un film, al di là del fatto appunto che ha una storia importante, ma non su tutte le storie importanti ci realizziamo dei film. Ho visto delle cose che tu non hai visto, mi spiace. No, ti devo dire. Io ho visto delle cose di più importanti che ho provato a raccontare, se tu non ce le hai viste... Non ce le hai fatto vedere, scusami, se erano cose importanti, dovremmi farci vedere le cose... Scusate, però adesso fatelo rispondere, perché se no non lo fate tutta... E poi, no, visto che non sono un direttore, avete fatto dei lunghi monologhi, per cui... Vabbè, ma noi siamo qua per parlare o no? Avevate detto che c'era poi una grande discussione. farlo rispondere o no? E' giusto anche... Sì, però mi si dice che bisogna... Sì, però scusami, volevo soltanto puntualizzare una cosa, che non sono il direttore della fotografia, mi ha detto che non sono il direttore ha fatto due domande e non lo state facendo rispondere. Ah. Va bene. Allora, io in Ibi ho visto il percorso di una persona che passa attraverso una forte consapevolezza dell'errore che ha fatto dentro ad una scelta di disperazione, diciamo, enormi problemi economici decide di accettare di portare della droga. Da questo momento lei trasforma questa consapevolezza in un percorso di consapevolezza interna che racconta e che decide di provare a raccontare anche fuori e di partecipare attivamente dentro ad un movimento che serve a rivendicare un diritto anche nel momento in cui è fatto un errore. E questa è una parte di Ibi che mi interessa molto. L'altra cosa che io ho sentito guardando le immagini di Ibi è che lei utilizza il video non soltanto per documentare ha fatto centinaia di ore di manifestazioni di cerimonie che erano più a scopo documentativo ma poi inizia anche a fare delle espressioni artistiche non solo documentative e che sono legate ai fotomontaggi di cui avete visto alcuni estratti e nella mostra ne potete vedere altri sono legati agli autoritratti che avete visto alla fine del film lei si è fatta 400 autoritratti molto camaleontici molto diversi in cui però ogni volta è diversa ma ogni volta esprime una sua identità attraverso una non so se voi vi fate 400 autoritratti vestiti in maniera diversa nella vostra vita credo che sia una direzione di espressione artistica e poi credo che anche le inquadrature che lei fa del suo racconto dentro casa siano un percorso di maturazione registica e il film inizia e finisce con un pezzo che è quello dei secchi che è un racconto della sua autoformazione nella comprensione della grammatica registica che lei sviluppa e se tu hai visto bene l'inizio e la fine capisci che cosa lei impara tra l'inizio e la fine e questo lo fa tutto dentro ad una vita in cui non aveva l'autorizzazione a studiare a fare queste cose e cioè sicuramente io ho scelto di mettere delle immagini di Ibis sfocate perché in quelle immagini diceva delle cose importanti lei probabilmente mi avrebbe detto che non le voleva quelle immagini io le ho messe perché il suo il momento in cui parla della madre all'inizio quella completamente sfocata quando lei parla del vorrei tornare da mia madre ma non posso era il modo con cui lei con la sua voce ci spiegava che cosa vuol dire non poter tornare dalla madre essere bloccata dai documenti quindi alcune immagini sono state scelte perché lei potesse raccontare qualcosa e non ci fosse il bisogno di mettere delle voci o delle scritte che raggiungessero un racconto quindi sono state scelte alcune immagini anche se tecnicamente sbagliate anche la c'è un'altra in cui è tutta sfocata quando mette gli spinaci nei sacchetti perché dice spero che nel 2012 2013 potrò rientrare tra chi quella piccola frase manda avanti la narrazione ed era più bello che ci fosse la sua piccola frase manda avanti la narrazione che non una mia o di qualcun altro e quindi ho scelto anche delle immagini sfocate in questo senso perché succedevano delle cose utili alla narrazione forse allora intanto te ne faccio una io riguarda la cosa di cui sicuramente abbiamo parlato prima del film e adesso non ricordo se abbiamo accennato nell'introduzione cioè al di là dell'imbattersi in questa storia dell'incontrare questo archivio e di fare un film di montaggio che non è soltanto un film di montaggio c'è una questione importante che attraversa diciamo molti tuoi film ed è quello della militanza oggi si è diciamo militanza è quasi diventata una parolaccia sembra quasi che un film militante sia un film non so ideologico sia un film è un aggettivo limitante parlare di un film militante allora vorrei che tu invece come dire si spiegassi il motivo per cui accanto a dei film più tradizionali in qualche modo per quella che è il panorama cinematografico della distribuzione italiana contemporanea a costi invece operazioni dichiaratamente politiche e militanti come queste non che gli altri non lo siano gli ultimi due lo sono molto di tempo ma allora io ho iniziato a fare cinema per raccontare le storie i luoghi che attraversavo facendo ricerca di sociologia e militanza in progetti di cooperazione internazionale di attivismo politico ho iniziato a fare cinema così e non ho studiato cinema poi man mano mi sono accorto che se io non mi mettevo a studiare cinema e non riuscivo a capire il linguaggio del cinema il raccontare una storia perché è importante era assolutamente non sufficiente per fare un film e tuttora sono convinto che la parte formale e la parte di scelta del linguaggio di scelta della fotografia di scelta della direzione degli attori eccetera sia molto più importante della parte di orizzonte etico di ciò che faccio ma se riesco ad infilarci dentro anche l'orizzonte etico sono più contento cioè se quello che se quello che faccio è prima di tutto deve essere per me un bel film mi deve piacere devo essere riuscito a andare fino in fondo nelle mie capacità nel racconto nell'utilizzo di quel linguaggio e questo è prioritario rispetto a qualsiasi altro scopo se dentro a questo riesco a collocare anche il valore politico etico di quello che faccio lo ritengo più completo perché sento che il racconto che faccio può aiutare una una cosa molto diversa che è l'azione politica legata a alcune storie di giustizia che una persona dopo 10-12 anni non possa essere riconosciuta legalmente nella sua vita non possa avere riconoscimento della sua vita normale nel tessuto in cui vive nonostante abbia questa vita normale secondo me è un'evidente giustizia e se mi capitasse mi incazzerei siccome ci sono tante altre persone come Ibi che sono in questa situazione e c'è un movimento di cui Ibi faceva parte che cerca di lottare per questo se io riesco a fare un film che aiuta questo movimento sono contento ma cerco prima di tutto di farlo in primis con un'attenzione artistica formale e di studio dello sguardo se l'Europa finanzia sostiene e promuove la costruzione di centri di detenzione disumani contro i migranti se il mio film aiuta a raccontare perché l'Europa lo fa e a denunciarlo sono contento ma prima di tutto scelgo l'attore con cui farlo la location dove farlo eccetera come scriverlo eccetera e non ho nessun problema a tenere insieme le due cose spesso mi confronto con colleghi che mi dicono stai attento perché la tua posizione esplicitare così tanto la tua posizione politica seleziona il pubblico e allora non si va a vedere il film di Segre perché se vado a vedere il film di Segre io sono d'accordo con gli immigrati e invece devi fare devi essere più attento a non esporti perché così raggiungi più pubblico oltre al fatto che i dati poi non dicono questo perché in realtà vanno anche abbastanza bene i film ma il punto è se io devo per raggiungere più pubblico rinunciare a dire che mi fa schifo che l'Europa finanzi centri di detenzione preferisco dirlo ciao volevo sapere quando è stato l'attimo in cui sei rimasto affascinato dal personaggio di Ibi se è stato perché hai visto l'archivio o dalla sua personalità in quanto potenziale intermediario è stato quello che vi ho raccontato cioè quando lei mi ha chiesto se ero un regista vero e lei mi ha detto io non posso essere una regista vera perché sono illegale poi è stata zitta per 5-6 secondi molto seria e io non sapevo come rispondere non sapevo aveva creato l'imbarazzo apposta e poi è scoppiata a ridere come scoppia a ridere e lì mi ha colpito lì è stato il punto di inizio poi in realtà mi sono accorto che quando poi dopo sono andato dagli amici del movimento ho detto ho conosciuto questa donna mi ha detto guarda che la conoscevi già perché l'avevi già anche filmata c'è un'immagine nel film di lei con il fazzoletto rosso che fischia quando fischia in una manifestazione che in realtà è un'immagine che ho fatto nel 2009 per il sangue verde che è un mio documentario su Rosarno effettivamente quando me l'hanno detto sono andato a vedere quelle immagini e io l'avevo filmata per tanto tempo in manifestazione perché era una donna che in manifestazione alzava proprio il livello della partecipazione ma senza esagitazione proprio con una capacità emotiva di trascinare e questo questo suo ruolo come dicevo prima di aver trasformato una sua necessità di silenzio perché lei si era abituata che doveva stare zitta e sperare che non la trovassero e poi invece uscire con questa forza ed evidenza dire sì è vero io sono illegale sono qua per dirvi che sono illegale per vivere e ve lo dico in faccia e l'archivio quando è che è entrato in discussione l'archivio? beh dopo questo è Ibi che mi ha colpito in vita quando poi Ibi è mancata l'unico modo che avevo per fare un film con Ibi era lavorare sul suo archivio che è diventato un archivio nel momento in cui è morta perché non era pensato come archivio cioè era la sua produzione quello che lei aveva a casa nel momento in cui è morta è diventato un archivio e la domanda è perché non è fatto un film solo di archivio? perché quello che è rimasto di lei oggi quel silenzio e il ruolo di Salami nel rapporto con lei è una cosa che mi aveva molto toccato cioè la storia d'amore tra lei e Salami è una parte importante del film ed è poi la parte cioè ma può trasparire anche nell'archivio questo? eh? può trasparire anche nell'archivio? beh oddio credo credo che il momento in cui senti quanto lei ma anche con il modo con cui lui parla di lei sia un modo che rafforza questo rapporto e per cui ho sentito che le due cose poi mi si è sbagliato per carità è il modo con cui ho sentito che queste due cose interagivano no, non c'è un giusto sbagliato è solo un modo no, no ma infatti c'è la sensazione che sia sotto processo ho una sensazione stranica mi sembra una cosa chiedere a un artista perché fa un gesto artistico è come chiedere a una persona perché sta respirando cioè è uguale io non saprei rispondere a una domanda del genere cioè un artista fa un gesto artistico perché sa benissimo dentro di sé il motivo per cui lo sta facendo ma non è assolutamente dovuto cioè non deve assolutamente spiegarlo la motivazione del suo gesto o tu lo prendi lo fai tu oppure ti alzi e te ne vai cioè è una cosa assolutamente in qualsiasi senso è un esercizio di libertà assoluto io personalmente lo ringrazio profondamente per avere fatto questo gesto artistico il tuo e ritengo Ibi un personaggio straordinario un personaggio che andava assolutamente indagato come Andrea ha fatto ed è la sua presenza nella mia vita è una presenza rimane una presenza e sono felice che ci sia tra l'altro appunto volevo chiederti anche una cosa un po' più tecnica lei aspetta 15 anni prima di appunto aspetta 15 anni questo famoso permesso di soggiorno senza il quale non può tornare in Africa non può tornare perché se torna poi dopo non può rientrare non può mai più rientrare e in questo quindi per 15 anni lei praticamente rimane non è né italiana né africana cioè non è niente di niente cioè non ha assolutamente nessun tipo di identità però lei si sforza di parlare l'italiano c'è quella famosa scena in cui lei redarguisce i suoi conquilini tra cui suo marito e gli dice che fanno male a non imparare a parlare l'italiano perché imparare l'italiano è già un passo verso l'identità ovviamente lei lo parla malissimo perché parla un italiano improbabile però dico almeno si sforza e in tutto il film e in tutta la comunità è l'unica che noi sentiamo parlare in questo italiano improbabile però dico il suo sforzo straordinario è uno sforzo legato alla sua identità alla sua scusa la sua personalità oppure in questo in questo ambiente in cui lei vive dove è rimasto Salami e poi ti volevo anche chiedere ai Salami cioè Salami ha il permesso di soggiorno qual è la sua vita cioè lui ha un lavoro rimane lì in quel posto è ancora lì perché non può andare via da lì e il come dire l'aggregazione che c'è in questo luogo come si comporta rispetto appunto anche alla lingua l'integrazione del linguaggio che diciamo è la cosa insomma che poi ti fa entrare in comunicazione con il resto del mondo allora essendo Castelvolturno un posto dove vivono circa 10.000 africani di cui una gran parte parla Yoruba un'altra parte parla Cui e parlano tutti diciamo inglese francese con diciamo pigino africano è un posto che viene anche utilizzato per le persone in maniera istintiva per trovare quelli che parlano la tua lingua stare tra le persone della tua comunità ed è un posto che crea isolamento in qualche modo perché ma è questo io mi ricordo ad esempio ho vissuto a Berlino per un po' nel quartiere dove vivevo c'era una grossa comunità di vietnamiti che non parlavano una parola di tedesco perché lavoravano nelle cucine dei ristoranti cinesi o vietnamiti e vivevano lì e non parlavano una parola di tedesco cioè nel momento in cui si creano delle comunità che creano in qualche modo una loro autosufficienza o ad esempio perché c'è stato per un lungo periodo la difficoltà dei cinesi di imparare l'italiano adesso come non tutti perché inizia a esserci la seconda generazione che ovviamente ha un'interazione comunque sicuramente la comunità cinese è una delle comunità con cui si fa più fatica ad avere interazione per due motivi basilari uno che non hanno una lingua coloniale di scambio cioè non parlano inglese soprattutto la generazione precedente adesso i nuovi cinesi i giovani cinesi che arrivano adesso arrivano che sanno bene l'inglese che hanno un'estrazione sociale diversa eccetera e che hanno una struttura economica interna alla comunità ad esempio il lavoro di Solami è un lavoro interno alla comunità cioè lui mette a posto le macchine per quelli della comunità per cui lui tutti i giorni parla soltanto ioruba inglese e gli basta per arrivare ad avere i soldi per pagare l'affitto no? Lui adesso ha il permesso non è cittadino italiano ha il permesso di soggiorno regolare già lo dice nel film ha avuto la conferma dopo il secondo permesso di soggiorno adesso ha il permesso di soggiorno di 5 anni dopo questi 5 anni potrà chiedere la carta di soggiorno che è quella che dura 10 anni dopo potrà chiedere la cittadinanza poi morirà come sua moglie ciao Fabio Ibi non può mai avere permesso di soggiorno perché avendo come dice la sentenza arrivata dopo la sua morte che dice che avendo lei fatto quel reato è evidente che non ha nessuna inclusione sociale ma la base legale vera è che Ibi non solo ha fatto 3 anni di carcere più 3 anni di 2 anni e mezzo di domiciliari ma poi doveva pagare 180 milioni di lire perché era stata arrestata con le lire cioè 90 mila euro e finché non pagava quelle 90 mila euro il suo debito con lo Stato non era regolato e quindi non poteva avere una riabilitazione e non poteva iniziare a poter chiedere il permesso di soggiorno e questo riguarda tantissime persone che hanno fatto anche solo piccoli reati quello di Ibi è un reato medio grosso dopodiché per quello cioè medio grosso medio piccolo in realtà perché per lo stesso reato difficilmente un italiano si fa carcere perché ha un buon avvocato che lo tira fuori con la condizionale perché lei non è che è arrivata con un camion di eroina cioè lei non ha mai trovato i dati di quanta di quanta eroina trasportasse ma l'aveva nel corpo quanta roba poteva avere e quindi però è commercio internazionale di è evidente peraltro che lei non era la proprietaria di quella ma era un tramite quindi con un buon avvocato sarebbe probabilmente rimasta fuori lei non aveva nessun avvocato niente e si è fatta tre anni di carcere lei ha sempre detto io sono contenta di essermi fatta il carcere perché ho capito alcune cose della mia vita grazie al carcere perché ha trovato un ottimo assistente sociale questa è un'altra storia ma sta di fatto che non ha mai potuto liberarsi di quella colpa e in quella situazione ci sono migliaia di altre persone che hanno fatto piccoli reati durante il periodo di illegalità cioè il periodo in cui non hai la possibilità di avere un lavoro regolare ti ritrovi che qualcuno ti consiglia di fare quel piccolo furto di fare quel piccolo spaccio di questa cosa ti prendono questo costituisce una colpa da cui non riesci mai a liberarti e questa è una cosa su cui il movimento dei migranti che fa anche assistenza legale su tutto ciò sta lavorando moltissimo e erano molto felici che alla proiezione che abbiamo fatto del film alla reggia di Caserta fossero venuti i sostituti procuratori della procura della Repubblica di Santa Maria Capavettere che è quella che ha diciamo la responsabilità di quell'area che hanno chiesto un appuntamento col movimento per discutere di questo punto perché effettivamente è un punto che tiene bloccate delle persone in una situazione in cui certo hanno la scelta di poter tornare a casa ma tornare a casa a mani vuote con un percorso migratore bloccato è una cosa difficilissima cioè tornare a casa e dire ho fallito totalmente non c'ho niente adesso aiutami tu è una cosa molto molto difficile da fare come Salah mi spiega molto bene in un momento non c'ho niente